Io, Don Gianfrancisco Lontano Battista, promotore di giustizia, giuro di debile confidenza e diligenza e il compito che rispetta nell'inchiesa di Cesana sulla vita, il martirio e la fama di martirio e il segno del servo di Dio. Rispetta nell'inchiesa di Cesana sulla vita, il martirio e la fama di martirio e di sedi del servo di Dio, Don Giovanni Vittorio, sacerdote e padre. La venta, 29 giugno 1885, argenta, 23 agosto 1923. Giuro inoltre di mantenere il segreto ufficio. Che Dio mi assista. E dopo aver valutato l'esistenza di un'autentica fama di santità e di sedi del suddetto sacerdote, con il presente decreto accetta il supplice livello, presentato in data 28 luglio 2023, da padre Gianni Fesco dell'Ordine dei Domenicani, quale postulatore con cui si chiede di introdurre la causa. Leggo ora in decreto di Costituzione.